La Regione Friuli Venezia Giulia non è tenuta a risarcire i danni subiti dai soci prestatori delle cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli. Lo ha deciso il Tribunale di Trieste che ha rigettato la domanda presentata da 223 soci delle cooperative operaie per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito alla messa in liquidazione delle stesse COP. I 223 soci avevano chiesto al Tribunale di condannare la Regione per omessa vigilanza e controllo sull'attività delle cooperative, ma il giudice Filomena Piccirillo ha escluso la violazione da parte dell'amministrazione regionale degli obblighi di vigilanza e controllo prescritti dalla legge a suo carico. Insomma, un altro duro colpo per i risparmiatori, non solo per i 223 soci che avevano presentato il ricorso al Tribunale di Trieste, ma quasi certamente per tutti i 17.000 soci prestatori delle coop operaie. Anche in caso di appello, infatti, i termini per la prescrizione dell'eventuale diritto al risarcimento scadranno fra poco più di sei mesi, a ottobre. E' uno sputo in faccia ai soci. E' il commento dell'avvocato Mario Reiner che ha assistito i 223 soci davanti al Tribunale.